Sono almeno 500 anni che si cerca fanno la basilica descritta da Vitruvio nel libro quinto del De Architettura e la recente scoperta dei resti romani nel centro storico della città della Fortuna ha acceso la speranza degli esperti del settore e attirato l'attenzione dei media nazionali. Questa mattina dalle 9.30 si sono susseguiti i sopralluoghi della soprintendenza del nucleo Carabinieri Tutela Patrimonio Culturale di Ancona del Comune di Fano e del Centro Studi Vitruviani. Anche la stampa ha ottenuto l'autorizzazione per accedere al cantiere di ristrutturazione edile dove sono raffirati i resti di quello che appare un imponente edificio pubblico decorato da marmi preziosi. Dottoressa facciamo chiarezza ci sono delle alte probabilità che questi reperti possano appartenere alla famosa basilica di Vitruvio? Si tratta indubbiamente di una scoperta estremamente importante per la realtà archeologica di Fano va evidenziato che allo stato attuale è certamente prematuro dirlo. Che tipo di resti sono stati ritrovati? Abbiamo ritrovato i rimanimenti risalgono ad un edificio di evidenza pubblica di età augustea. Amplieremo gli scavi per indagare ulteriormente e fare maggiore chiarezza sull'eventuale riferimento all'attività vitruviana. Va evidenziato che in questa fase è certamente prematuro esprimersi su questo. Ilaria, dai primi studi che avete eseguito che cosa avete trovato e che cosa è emerso? Dunque, abbiamo materiali che vanno dall'inizio del primo secolo d.C. fino all'epoca medievale oltre fino al 1700. È una cosa molto interessante per noi perché ci dà uno spaccato sulla vita di Fano anche dopo l'epoca romana. Sono aspetti che magari sono meno, come dire, eclatanti però che per noi sono invece molto utili e ci danno molte informazioni. Quindi sia frammenti ceramici, un grande classico dell'archeologia, oltre che, come dire, frammenti di marmo, gli stessi frammenti di marmo che vediamo in posto, l'abbiamo ritrovato in fase di crollo, naturalmente, e poi anche frammenti ceramici di epoca medievale, quindi maioliche, maioliche arcaiche, ceramiche invetriate, quindi elementi che ci danno uno spaccato di vita della Fano anche dopo l'epoca romana. Abbiamo visto che ci sono almeno due fasi di frequentazione dopo l'epoca romana, diciamo in epoca medievale fino al 1700, come dicevo, 1800. E chiaramente ancora è da studiare, però sicuramente ci daranno delle belle informazioni sulla vita di Fano. Se non dovesse essere la Basilica di Vitruvio, quest'area verrà chiusa e coperta? Ancora non lo sappiamo. Vorrei approfittare, se è possibile, veramente per ringraziare la proprietà, perché non dobbiamo dimenticare che siamo in un cortile di una casa privata. E veramente la fortuna è stata anche quella di trovare una proprietà veramente disponibile che ci ha aiutato in tutto. Comandante, è fondamentale anche il vostro apporto? Sì, come è già avvenuto in occasione delle acquisizioni video e dei rilievi fatti con proprio drone, i carabinieri per la tutela del patrimonio culturale offriranno, continueranno ad offrire il loro contributo alla superintendenza, in primis e poi a tutti gli altri soggetti istituzionali intervenuti, interessati all'evento, e garantiranno al contempo quella cornice di sicurezza, di legalità, sia in termini preventivi che repressivi. Assessora, anche lei questa mattina ha eseguito un sopralluogo nel cantiere. Che cosa significa per la città di fanno questo tipo di ritrovamento? Questo tipo di ritrovamento è estremamente importante. Ancora, come hanno detto anche i tecnici, gli archeologi, non sappiamo se si tratti veramente della Basilica. Certo è che è un grande edificio pubblico. Questo cosa ci fa, ma anche l'attenzione mediatica che abbiamo avuto, cosa ci fa capire? Ci fa capire che Vitruvio è un nome assolutamente importante. Fano, città di Vitruvio, ha una potenzialità che ancora in troppi non hanno capito. Noi dobbiamo puntare su questo, sulla qualità, sul valore scientifico che ci dà anche un'istituzione come il Centro Studi Vitruviani che stiamo coinvolgendo, e dobbiamo capire che Fano, città di Vitruvio, è il nostro brand. Poi ne abbiamo tanti, però ci deve essere qualcosa che ci identifica. Abbiamo un patrimonio e questo è l'ultimo tassello che ci può aiutare a valorizzarlo. Io invito tutti a non essere negativi, ma essere positivi e contenti. Sono passati pochi giorni. Cercheremo di coinvolgere tutta la città e tutte le parti della città per valorizzare al meglio, ma dobbiamo essere contenti e capire la potenza che ha Vitruvio. Presente oggi anche il Centro Studi Vitruviani. In base a quanto ho potuto constatare questa mattina, ma anche valutando quello che riporta il De Architettura, quali sono gli indizi a vostra disposizione? Diciamo che, come è stato già detto dalla soprintendenza e da altri colleghi, è difficile affermare oggi che siamo di fronte ai resti della Basilica di Vitruvio. Certamente si tratta di un rinvenimento di grande importanza per conoscere l'urbanistica di Fanonfortune, in particolare dell'urbanistica dell'area forense di Fanonfortune, perché siamo proprio in prossimità del centro della città, quindi della zona del Forum, la zona dove sappiamo con certezza, ce lo dice Vitruvio, lui aveva collocato la Basilica. Quindi è impossibile al momento fare delle affermazioni precise, non possiamo dirlo, non possiamo neanche escluderlo. Però sicuramente quello che penso è che ci potrà dare questo ritrovamento delle informazioni importanti, in ogni caso, sulla Basilica, perlomeno sulla sua ubicazione. E quanto è importante per voi che le istituzioni comunque sostengano il centro studi e poi logicamente tutti i vari accertamenti che devono essere eseguiti? Sì, è fondamentale che le istituzioni, diciamo, gerarchicamente dal Ministero, il più alto a quelle locali, sostengano il centro studi, sostengono gli scavi in generale e l'attività scientifica, archeologica a Fano. Stiamo lavorando in collaborazione con tutti gli enti, devo dire che c'è un clima molto favorevole, siamo in stretto contatto appunto con la soprintendenza anche per quanto riguarda l'aspetto scientifico, perché, come è stato già ricordato, il centro studio di Vitruviani, che è nato nel 2010, ha nel comitato scientifico alcuni tra i più grandi esperti di Vitruvio che abbiamo al mondo. Quindi, ecco, se parliamo di Vitruvio, il centro studio ovviamente deve essere sempre in prima linea e lo è. Secondo lei potrebbe essere importante fare degli accertamenti anche in via Vitruvio? Sarebbe fondamentale, perché via Vitruvio, secondo alcune ipotesi, tra le quali a mia, potrebbe essere il bordo del forum, quindi della piazza di Fano Fortuna, è uno dei limiti, quindi. Diciamo che in tanti anni, in tanti secoli anzi, non è mai stato identificato una lastra, diciamo, di pavimentazione del forum. Quindi fare un saggio in via Vitruvio potrebbe essere fondamentale appunto per avere finalmente un elemento certo della piazza di Fano Fortuna.